Ben ritrovati ancora insieme negli studi di Una Mela al Giorno. Parliamo di separazioni. Pensate che secondo i dati ISTAT sono oltre 97.000 le coppie in Italia che ogni anno si separano. Separazioni che a me non riguardano spesso soltanto la coppia, in senso stretto, quindi l'uomo e la donna, ma riguardano anche i figli che a volte o anche troppo spesso ne pagano le conseguenze peggiori. Se sono troppo piccoli è anche difficile fargli comprendere che cosa significa separarsi e soprattutto perché ci si separa, come si arriva a questa rottura, perché mamma e papà non stanno più insieme. Allora per spiegare queste dinamiche, per farlo in parole molto semplici, una scrittrice ha dedicato un piccolo libro proprio a questo argomento e ci ha raggiunto qui questa sera nei nostri studi. La dottoressa Maria Raffaella Palladino, scrittrice, benvenuta. Buonasera, grazie. Buonasera a lei. Abbiamo con noi anche la dottoressa Marina Palumbo, psicologa clinica. Buonasera, bentrovati a tutti. Grazie Isabella. Allora io entrerei immediatamente nel vivo di questo libro che è prossimo alla pubblicazione. Da dove è nata questa idea? Allora, questa idea nasce quando purtroppo quando mia figlia aveva un anno e mezzo, solo un anno e mezzo, la coppia si è sfaldata e ci siamo separati, diciamo in buona e dopo quattro anni invece la situazione è diventata un po' più difficile. Allora, in questi anni mia figlia mi chiedeva esattamente quello che hai detto prima, cioè come mai non c'è più, come mai non state più insieme, come mai. Mi hanno sempre detto di raccontargli la verità, quindi io ho sempre raccontato mamma e papà si sono separati, ma tu non c'entri niente, tu non c'entri niente, ripetevo questo tu non c'entri niente. Mentre lo ripetevo andavo nelle librerie cercando un libro che fosse fatto apposta per i bambini, quindi comunque qualcosa di semplice, di molto, diciamo alla portata di una bambina di quattro anni e non trovavo, trovavo dei grandissimi trattati, trovavo tutto sulle separazioni, sui divorzi, ma niente per i bambini. A quel punto ho detto sai che glielo scrivo io e quindi mi sono messa a scrivere questo libretto, soprattutto con l'intento di responsabilizzare mia figlia dalla separazione tra noi, cioè tra i genitori, lei non c'entrava nulla e invece qualche senso di colpa, qualcosa comunque si cominciava a sentire che ci fosse comunque qualche problema in cui lei pensava di essere la causa. Succede spesso, lo vedo, che i bambini comunque si sentano la causa scatenante di un divorzio, di una separazione, di un allontanamento. E questo libretto è proprio, diciamo, dedicato ai bambini per responsabilizzarli completamente dal sentirsi, diciamo, causa di una separazione e soprattutto è un gioco, diciamo, in rime, con molte immagini, con praticamente la storia di un angioletto che è Cupido, che praticamente è quello che fa innamorare la coppia e quindi dalla quale poi nasce la famiglia e tutto. E un angioletto dispettoso, che mi sono inventata non so neanche come, che praticamente è Cupido, che sarebbe quest'angioletto che leva le frecce d'amore, quindi fa disinnamorare le persone. E quindi, essendoci quest'angioletto che gioca a questa battaglia con Cupido, il bambino comunque dà, diciamo, la colpa a quest'angioletto rispettoso. Trova una motivazione. Trova una motivazione, sì. Io ho pensato questo. L'idea di base è che quest'angioletto però l'abbia tirato fuori proprio lui, Cupido, dalla nuvoletta. Quindi proprio per giocare a questa battaglia è riuscito a tirare fuori anche quello che l'angioletto fa innamorare le persone. Qui non è totalmente cattivo, è solo dispettoso, nient'altro. Quindi è un gioco tra loro che però può creare dei problemi quando esiste una famiglia, soprattutto perché la separazione tra due persone senza figli è più facile e comunque è tra adulti. Quando ci sono i bambini di mezzo la cosa diventa molto difficile, soprattutto quando le separazioni durano anni e anni e anni. E quindi anche se separati a un anno e mezzo, a 15 anni, come nel mio caso, siamo da punte a capo. Siamo ancora comunque in ballo. Quindi purtroppo una separazione fatta all'inizio, anche quando il bambino è piccolo, che pensi ok, c'è nato dentro, non c'è problema, non ne risentirà. Andando avanti, se le cose comunque non si rimettono a posto, nei rapporti tra i genitori ne soffrirà per tutta la vita. Poi, soprattutto, se uno dei due parla male o tutte e due dell'altra persona, comunque lì, oltretutto, ci sarà comunque una difficoltà di rapporto con il genitore del quale si parla male. Trovo che i bambini vadano tutelati come prima cosa, prima di ogni altra cosa in una separazione o in un divorzio. sono l'unica cosa che ci tiene legati per sempre e sono l'unica cosa bella che abbiamo fatto insieme, anche se poi va tutto. La storia è finita. Perché poi in queste situazioni quello che risulta veramente difficile è non far coincidere la coppia anche con l'essere genitore, ovvero non bisogna smettere di essere madre o di essere padri, anche quando non si è più marito e moglie, questo sostanzialmente. Dottoressa Palumbo, è così difficile riuscire a fare questa distinzione? Per quale motivo? Per quale motivo? Intanto è difficilissimo, perché vedo e osservo dal mio balcone professionale delle situazioni devastanti, in tutti i cittadini sociali, è assolutamente trasversale ed è difficile perché si deve prevalere come persona, si deve prevalere come genitore migliore, come c'è anche un'attitudine molto narcisistica in ogni genitore che si separa. Oggi, per fortuna, la mediazione familiare attraverso un coinvolgimento di un consulente psicologico che si occupi di questo, aiuta moltissimo a stemperare la credine, l'odio, i risentimenti profondi, cioè quello che i genitori devono capire anche a casa perché si sta separando ora. Farsi la guerra per i soldi, per vendetta, porta sicuramente alla distruzione di un figlio, alla distruzione di una buona regolazione emotiva di un figlio che diventa un adolescente inquieto, che diventa un adulto mancante di una parte emotiva e che potrà poi a sua volta risentirne in ogni sua relazione umana, nel rapporto con la famiglia, un domani nella coppia, nella professione, a livello genitoriale. Quindi è fondamentale, per me lo sa, ne abbiamo parlato tante volte, insegnare nella mediazione familiare la parola pace, che non vuol dire, volemosebbene, come si dice qui a Roma, ma vuol dire imparare ed esercitare l'arte del rispetto e dell'educazione per una missione comune, il bene dei figli. E se si è veramente maturi, questo è un equilibrio che si può assolutamente raggiungere, anche perché se il figlio diventa un buon adulto, un giovane buon adulto, anche noi possiamo avere di nuovo una vita serena, possiamo aspirare a farci una vita nuova, a mantenere però un rapporto di rispetto e di continuità, perché non si smetterà mai di essere genitori, e quindi bisogna assumersi la responsabilità che il rapporto tra madre e padre e figlio è a tempo indeterminato. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare approfittando della sua presenza è l'argomento di cui ci parlava la dottoressa Faladino, quello del senso di colpa, che prova il bambino, anche piccolissimo, per questa separazione. Diciamo che ho notato che tendenzialmente i bambini si sentono facilmente in colpa, anche se vedono la propria mamma triste per tutt'altro motivo o semplicemente giù di tono, la stessa cosa ovviamente vale per il papà. Ecco, perché tanto senso di colpa? Perché un bambino anche di un anno, due anni, tre anni, prova e verbalizza poi questa cosa dicendo ma è colpa mia. Sì, sì, dice colpa mia o nello specifico più che colpa mia, dice non sono stato bravo, sono io che ho fatto arrabbiare mamma e papà, è colpa mia, ma perché io sono inadeguato, perché io sono stato un cattivo bambino, perché io non sono stato un buon figlio. Questa è anche, come dire, questa assunzione di colpa da parte del bambino è interessante a livello mentale perché spiega come il bambino, assumendosi tutte le responsabilità, vuole liberare dagli aspetti negativi i genitori, alleggerendoli da un carico e possibilmente, questo è quello che accade nelle testoline dei bambini, poterli fare riavvicinare, cioè mi assumo io tutte le responsabilità negative, vediamo se voi, se io mi assumo tutta la parte della negatività, siete in grado ancora di tornare insieme, perché è sempre la grande aspirazione dei figli, rivedere i genitori insieme, addirittura, come dicono gli psicologi, si ammalano, diventano pazienti designati, nel senso che si ammalano anche di una patologia psicosomatica, e le posso dire disturbi alimentari, piuttosto che una pipì a letto, magari anche in bambini di 10-12 anni, cioè cronicizzano una debolezza, anche a livello fisico, rafforzata da una situazione psicosomatica, in modo che i genitori, occupandosi di loro e concentrando le loro attenzioni sul figlio, si distolgono dalla rottura della loro relazione. Quindi non facciamoci, non entriamo in questo loop devastante, portiamo immediatamente anche un bambino, da uno psicologo dell'età, ovviamente pre-adolescenziale, se è necessario ci sono anche dei meravigliosi test che possono venire sottoposti ai minori, già in primissima infanzia, in modo da capire quella che è la mappatura emotiva, e con quei riscontri anche aiutare i genitori nella separazione e nell'acquisizione di un ruolo diverso, non coppia genitoriale, ma semplicemente genitori, perché è un passaggio molto delicato, essere coppia genitoriale e poi interrompere la coppia e rimanere genitore. Ecco, questo è un passaggio che deve assolutamente essere attenzionato e compiuto insieme ad uno specialista. Assolutamente, è quello che ti arcavo, insomma ho tentato anche di sottolineare il passaggio appunto dall'essere una coppia di genitori a dei genitori che continuano ad essere tali, ma separatamente. Lei ci ha raccontato che l'idea di questo libro nasce proprio dalla sua esperienza di vita, ma si ritrova nelle parole che la dottoressa Falumbo ci ha raccontato rispetto al senso di colpa, cioè rispetto a quello che è il suo vissuto, la sua esperienza. Accade questo ad un bambino e in che modo il genitore soprattutto lo percepisce, perché quello che vorrei che passasse questa sera è un po' un messaggio anche di aiuto, di supporto a chi vive una situazione di questo tipo e può attraverso dei campanelli di allarme, delle sensazioni rendersi conto che il proprio figlio, anche se magari non lo verbalizza perché non tutti i bambini sono magari in grado o capaci o per carattere propensi a verbalizzare e quindi dire è colpa mia, però magari lo manifestano. Secondo lei quali potrebbero essere questi campanelli secondo la sua esperienza? Sì, allora la mia esperienza è stata più facile perché l'ha verbalizzato, però guardando anche insomma amici e bambini amici di mia figlia, ci sono comunque dei modi che sono magari di accudimento dei due genitori, il bambino che ti accudisce, che ti protegge, che dovrebbe essere completamente il contrario, invece lui prende il ruolo del genitore nei confronti dei genitori e soprattutto se i genitori cominciano a usarlo che succede spessissimo, cosa che succede spessissimo, usarlo praticamente come merce di scambio, cioè non è più un bambino ma è una valigia, quindi tiriamocelo di qua, tiriamocelo di là, no è mio, no è tuo, io faccio di più, io faccio di meno e lì il bambino oltre a essere completamente devastato dentro però continua ad avere questa, invece di proteggersi ed essere protetto così come dovrebbe, continua a proteggere i genitori, quindi quando sta con un genitore protegge uno, quando sta con l'altro protegge l'altro e questo senso di protezione nei confronti dei genitori secondo me è il campanello di allarme primario, nel senso proprio il primo che si può vedere, poi ci sono tanti disturbi ma quelli insomma sono più gravi e quindi si vedono facilmente, io direi che se tuo figlio ti dice a quattro anni mamma come stai, come ti senti, è un po' strano, ecco, nel senso se discute con il padre o con la madre per proteggere e dire non è vero che mamma è così tu stai dicendo una cosa sbagliata, non è vero che papà è così tu stai dicendo una cosa sbagliata, beh, lì non è un bambino che deve proteggere i genitori, siamo adulti quindi bisogna fargli capire, dirglielo e ripeterglielo, noi ci proteggiamo da soli e noi siamo qui per proteggere te e quindi proteggere te vuol dire non metterti in mezzo, vuol dire non tirarti da una parte e dall'altra, vuol dire non farti diventare merce di scambio, non usare i figli per scopi che non sono quelli di un genitore, il genitore deve pensare prima di tutto al figlio, prima di tutto a far stare bene il bambino e dopo di che tutto il resto, la sua vita, tutte le sue cose, ma la prima cosa a cui deve pensare è suo figlio perché anche questi bambini li abbiamo messi a mondo noi, non è che ci sono capitati così tra le mani, quindi dobbiamo abbiamo delle responsabilità e le responsabilità sono di comunque anche nella separazione ma anche quando si sta insieme di non usare i figli, ecco, non usarli per scopi che non sono comunque diciamo quelli per i quali siamo genitori, cioè siamo genitori per accudire loro, per proteggere loro, per farli crescere, farli diventare delle persone, delle belle persone, così. Ricordandoci ovviamente soprattutto che sono bambini che poi è quello l'obiettivo del libro perché adesso mentre lo rendeva tre mani lo stavo guardando e volevo tornare sul libretto perché oltre ad avere un linguaggio ovviamente semplice che lei ha scelto anche come contenuto e come stile anche le immagini sono prettamente state credo con cura selezionate affinché potessero evocare qualcosa di bello perché io quando guardo queste immagini vedo comunque due angioletti anche se l'altro uno è dispettoso e l'altro no però insomma sono entrambi angioletti infatti è quello che dicevo io ho incontrato questa ragazza che è una disegnatrice molto molto brava ha capito subito cosa di cosa parlavamo come era diciamo che siamo entrate in sintonia subito e e ha fatto questi disegni molto molto carini molto divertenti e molto alla portata dei dei bambini il libro è dedicato a mia figlia vabbè come diciamo come minimo con tutto quello che ha subito e e niente racconta appunto questa storia e e ci sono sì ecco questa praticamente è la famiglia in cui quando quando c'è un bambino di mezzo l'amore cioè la fine di un amore non non è non è solo della coppia non è solo nostra cioè è prima di tutto è dei figli quindi il problema deve essere risolto soprattutto guardando loro e non guardando noi cioè noi siamo adulti e bene o male ci riprendiamo loro devono crescere devono devono costruire una loro personalità e certo se noi da piccoli gli diamo questi aiuti diciamo tra parentesi la personalità sarà sicuramente difficile dottoressa palombo quanto è importante utilizzare l'immagine l'immagine giusta per virgolare certi messaggi perché a me è colpito molto l'illustrazione come dicevamo è stata fatta ad hoc per questo racconto ecco i colori le immagini i disegni è fondamentale perché l'utente del libro di Raffaella sono i bambini per cui il colore il colore gioioso perché sono colori forti colori accesi i visetti dei personaggi sempre ridenti per cui sicuramente è un libro che io consiglio naturalmente alle mamme ai papà di prendere al più presto di leggerlo e lasciarlo anche nella stanza dei bambini affinché se ne appropriino e lo scoprano anche da solo e mi piacerebbe anche che questo libro potesse essere un diciamo un momento di riflessione d'incontro anche nelle scuole nelle scuole dell'infanzia negli asili naturalmente anche nelle prime classi delle elementari perché il problema della separazione dei genitori è un problema gravissimo tocca profondamente i bambini e questo libro può essere un dolce strumento proprio di sostegno psicologico poi tra l'altro non so se tutta Teresa se lei è d'accordo potrebbe essere diffuso o utilizzato anche tra i bambini che non vivono una separazione ma che comunque magari ritrovano il compagno di classe il compagno con cui fanno sport che vive questa cosa e quindi le aiuta a comprendere un mondo che per loro è strano perché a volte è pure difficile spiegare ad un bambino che non vive quella determinata cosa che cosa sia una separazione anche come affrontarla con il proprio amichetto o amichetta sorridevo perché la faggiano è sempre perfetta quando deve divulgare quindi è sempre un passo avanti assolutamente è banale scontato scusate la voce proporlo solo a chi ha il problema ma prevenzione divulgazione anche saper accettare e stare accanto agli amichetti che vivono un momento così drammatico la lettura di questo libro è una lettura che aiuta tutte le parti quindi grazie Isabella perché mi era sfuggita lo ritenevo insomma importante perché un po' no quando parliamo anche di malattia e ahimè in questi studi lo facciamo spesso l'obiettivo è anche quello di parlare a chi malato non è o a chi una malattia non la vive proprio per sensibilizzare e per dare diciamo la lettura diversa dell'altro perché spesso è proprio questo che ci impedisce poi di comprendere chi è diverso da noi esatto la diversità che tocchiamo abbiamo toccato altre volte insieme con lei la diversità perché i figli dei separati o i figli di quelli che si stanno separando per i figli delle cosiddette molto cosiddette famiglie del mulino bianco vengono comunque attenzionati come essere strani alternativi sicuramente problematici e quindi guardati con degli occhi dobbiamo superare lo stigma lo diciamo spesso e sovente questo è uno stigma che dobbiamo proprio dimenticare stracciare perché i bambini sono tutti bambini e nelle problematiche che possono coinvolgerli in questo caso una separazione importante dei genitori saperli stare vicino e anche aiutare chi non ne ha di questi problemi perché fortifica e rende comunque delle persone eticamente e socialmente adeguate mi rivolgo a lei che l'autrice l'ha scritto questo libretto è d'accordo con quello che stiamo dicendo che può essere uno strumento per integrare perché si nota che magari c'è in una classe il bambino che ha i genitori separati anche più di uno ce ne sono perché i numeri lo conferono lo dice l'Istat che le coppie sono tante tantissime ogni anno e nonostante questo però come diceva dottoressa Palumbo lo stigma persiste è reale è tangibile sì allora io ho un episodio che proprio mi è successo cioè è successo a me nel senso io ho portato mia figlia all'asilo a due anni e mezzo ed era l'unica figlia di separati e parliamo di 15 anni fa quindi sicuramente i dati forse erano migliori di quelli che purtroppo sono adesso e la portai a scuola e chiesi all'insegnante dico non so se è giusto che stia comunque in una classe in cui non c'è nessuno che è come come lei non che lei avesse qualcosa di strano ma aveva solo i genitori separati e lei mi disse l'insegnante mi disse una frase che mi è rimasta mi rimarrà per sempre dice è solo la prima in effetti durante l'anno altre 3-4 coppie si erano sfaldate io mi auguravo ben altro non che si sfaldassero le altre coppie ma mi sono resa conto che comunque è un problema molto comune dove i bambini secondo me ancora non sono tutelati abbastanza non sono più che altro non sono non sono a conoscenza perché magari gli si parla davanti pensando che il bambino non capisce il bambino assorbe tutto il bambino capisce tutto il bambino capisce quello che gli stai raccontando non puoi dire mamma è andata a lavorare all'estero e torna tra 15 giorni no non è vero gli devi dire ci siamo separati almeno secondo me e poi da quello che dice la dottoressa penso che sia esattamente così e quindi dire le cose come stanno senza parlargli davanti perché capiscono non sono cioè non capiscono più di noi e anche le sensazioni le sentono più di noi perché noi siamo molto distratti loro no loro sono molto molto attenti quindi una qualunque piccolissima sensazione diversa loro la assorbono completamente quindi secondo me non sono assolutamente ancora tutelati è vero che ci sono molti posti dove insomma li aiutano possono essere aiutati ma è anche vero che c'è una difficoltà anche nei genitori a portarli perché comunque già è difficile che ci vadano loro quindi mettersi in discussione ed essere umili non è proprio facilissimo e quindi penso che invece sia basilare lavorare sui bambini quindi il mio sogno quando ho scritto questo libro l'ho scritto sicuramente per mia figlia ma il mio sogno poi quando ho cominciato a decidere di renderlo pubblico per aiutare altri bambini è di vedere la mamma appunto come diceva la dottoressa la mamma o il papà che leggono questo libro al bambino con il bambino quindi prendono del tempo per il bambino per spiegargli proprio c'è un angioletto tu non c'entri niente c'è il gioco della vita è così tu non c'entri niente cioè ripeterli in continuazione invece di ripeterli papà è cattivo mamma è cattiva che è facilissimo mettere il bambino al centro mettere il bambino al centro e il bambino debba tornare al centro speriamo che questo libro davvero possa essere di aiuto alle coppie che si sono separate che si stanno separando e come abbiamo detto anche a chi vuole spiegare al proprio figlio che cos'è una separazione a prescindere che la si viva o meno allora ringrazio i nostri ospiti ringrazio la dottoressa Palumbo e ringrazio la dottoressa Paladino una mera al giorno torna tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria vi aspetto